Night of Champions è quel piatto cucinato con gli ingredienti sicuri che sai che piacciono un po' a tutti e che quindi verrà ben digerito dalla maggioranza. Ritengo che sia difficile riuscire a dare una valutazione negativa a questo show, perché WWE ha preso una strada chiara, limpida, per certi versi con pochi rischi tranne in un risultato. Ma quello che intendo evidenziare è lo stile, stile rapido, veloce, sempre con qualcosa che bolle sul fuoco e si sa che in questo modo si vedono tante mosse, ci sono diverse full finish alla fine degli incontri e vieni preso, vieni tirato dentro. Ecco, secondo me il pregio principale di Night of Champions è che ti prende al guinzaglio, ti prende e ti proietta nel ring. Poi alcuni match è più di altri, ma lì sta alla piacevolezza di ognuno di noi. Ad esempio, AJ Styles contro Seth Rollins, c'è stata tutta una prima parte che io ho trovato un po' noiosa, a parte Seth Rollins che si veste sempre in maniera al bacio, no? Perché sembrava semplicemente uno showcase di mosse slegate, senza costrutto, senza una particolare logica a un certo punto. Però quando hai nel ring due mostri sacri come questi, e come fai a dire che stanno facendo male? Poi Seth Rollins ha iniziato a usare mosse un po' atipiche rispetto al suo solito, ad esempio un superplex invertito. Ha evidenziato dei problemi al ginocchio, eccolo qua, c'è anche la foto, guardate che bella che è. Questa è proprio poesia in movimento, dicevo, ha evidenziato delle difficoltà al ginocchio, abbiamo potuto vedere la sua sofferenza, il suo cercare di rimettersi in carreggiata, la resistenza alla calf crusher, lo stomp che prova a piazzare ma gli cede il ginocchio, quindi abbiamo avuto anche un po' di storia all'interno di questa battaglia. E' lui che vuole soppiantare Roman Reigns, mostrando come è un vero campione che va oltre ai suoi limiti e all'infortunio, vince, prende l'autostrada dei laghi, mette la tenda nel camping del trionfo e si porta a casa la cintura che gli viene consegnata da Triple H. Quindi inizio in salita e poi una discesa eclatante. Bel match, è quello che io voglio tutte le volte? È ciò che preferisco? No, no, però bello, bello. Grande anche il finale, questo passaggio di consegne, la nuova era di Raw che si apre ufficialmente con il suo atleta e personaggio probabilmente sin qui più significativo. E io so che i fan di Cody adesso mi impallineranno, però ho come la sensazione che a bucare lo schermo, davvero, tra i due, immaginandoci un testa a testa, sia molto di più set rispetto che l'American Nightmare. Ma nel caso ditemi nei commenti se non siete d'accordo, ovviamente fatelo con educazione. Trish contro Becky. Io sono quasi tentato, lo so, è eresia, di nominarlo miglior match della serata. Perché Becky Lynch e Trish hanno dato spettacolo. Trish vera il. Perché ha quegli atteggiamenti da sberle in faccia, ovviamente è una donna, mai ci azzarderemmo ad alzarle le mani addosso, intendiamoci. Ma riesce a dirigere il pubblico, e non ce n'è tanto bisogno perché i tifosi vogliono partecipare con una grande maestria. Dà ritmo insieme a Becky alla battaglia. Quando sbaglia, perché se vogliamo fare i precisini, Trish qualcosa sbaglia, c'è una veterana di grande affidabilità, perché adesso Becky lo è. Sono cancellati i primi match disputati dopo la gravidanza, che erano pieni di incertezze, anche accettabili e comprensibili. Ma quando Trish ha sbagliato, tipo un aggancio alle corde per l'assistor, Becky ha messo tutto in ordine. Quindi grande onore al merito ad entrambe, a Trish per essersi preparata così bene, a tutte e due per aver preparato il match così bene, e a Becky per non aver permesso che qualche imprecisione mandasse tutto a Remengo. E poi alla fine c'è l'ago che sposta la bilancia. C'è l'interferenza, la vedremo tra poco, credo, nel riassunto filmato, qui c'è un ottimo cheek kick, e la resistenza anche sulla disarmer. I capelli tirati, molta grinta. Ecco, c'è l'interferenza di Zoe Stark. Zoe Stark, appena promossa da NXT, profilata in un match importante, pronta ad entrare in rivalità, da protagonista o da seconda o da fianco, in un ruolo prominente, con Becky Lynch dall'altra parte. Questo match ha colpito tutte le basi, ma sarà che avevo timore che uscisse una fagiolata inconcludente, alla fine invece sono qua a dire wow che roba, la storia del confronto generazionale ha funzionato. Trish Stratus ha lottato a viso aperto, ma da il... Riuscendo proprio a trasudare quella voglia di vederla sconfitta che non tutti riescono a mostrare nel ring. Dominic ci sta riuscendo in questo periodo. Trish è stata sintonizzata sulla medesima frequenza. Brave, brave tutte le coinvolte. Ora non ci sono più le foto ad aiutarmi perché sto registrando praticamente appena finita la live reaction su Twitch. Vi ringrazio se siete passati a seguire lo show insieme a noi, a un certo punto abbiamo superato anche i mille, abbiamo sfiorato i millecento, quindi grazie davvero per l'entusiasmo. Questo match è stato piacevole. Ci ha raccontato di un Mustafa Ali croccante, underdog sfavorito, che prova ad andare oltre ai propri limiti. Si becca anche delle legne madornali. Qui tentava di rientrare nel ring e Günther lo ha steso con un calcio frontale. Piazza anche una buona variante del supercalcio in stile Switching Music, ma alla fine il generale del ring è troppo troppo forte e quindi tutto va come era preventivato. Io a questo match do un'ampia sufficienza. Mustafa Ali mi piace, pubblica sempre dei video interessanti di allenamento sui suoi social. Si vede che ama il wrestling. Ce n'era uno in questi giorni in cui si allenava in cardio con il figlio. Il figlio avrà, non so, 5, 6, 7 anni, vado a intuito. Ed era bellissimo vederli sotto il sole che mantenevano, no? Si davano da fare per mantenere la loro forma fisica. Bellissimo. Allora qua abbiamo un risultato incredibile a sorpresa con Asuka che batte Bianca Belair. Un incontro nato senza storia e che quindi nella mia valutazione paradossalmente è il peggiore della card, ma è un peggiore che è stato bello. Dicevo, lo zero storia, semplicemente Asuka è impazzita e inizia a sputare il veleno, il mist, eccetera, eccetera, gli fa prendere, in quella che è la mia scala, qualche voto in meno. L'incontro ha vissuto di un problema grave che c'è in quasi tutti i match di Bianca, che ha imparato, secondo me, una sola marcia nel proporre le sue sfide, ovvero troppe mosse, troppa sovraesposizione tecnica, inutile, non al servizio di raccontare una vicenda ben congeniata. Se Bianca Belair migliorasse questo aspetto, lei che probabilmente è già il miglior atleta, parlo anche degli uomini, dell'intera WWE, beh, diventerebbe una cosa impressionante. Però non sembra avere questa finalità o questa necessità. Quindi, tante mosse molto slegate, la storia che è semplicemente io, tu, titolo, beh, lo rendono, visto che si è inserito nella scia di tutti gli altri come filosofia, lo rendono l'anello debole della card. Che però viene salvato da un finale molto creativo, con Asuka, che dopo aver fallito il primo Mist, si sputa il veleno sulle dita, e quando Bianca tenta la KOD, gliele mette negli occhi, la cieca, e riesce a vincere la battaglia. Non mi aspettavo questo risultato. Finisce dunque il regno dei record di Bianca Belair. È un finale strano, che potrebbe anche essere il preludio ad una Bianca che si ferma, che si riposa, o che va a fare altro. Chissà, magari va anche lei a recitare. E abbiamo un Asuka che invece, dopo tanti bocconi amari, e anche una certa assenza negli ultimi mesi, improvvisamente si ritrova in cima alla divisione femminile di Ro. Andiamo avanti. Questo è il match che doveva essere. So che qualcuno si lamenterà, Rhea Ripley che batte Natalia in 4-4-8, ma io credo che dopo che Rhea ha concesso a Zelina Vega un match competitivo a Backlash, quindi a Porto Rico, non poteva fare altrettanto anche stavolta con Natalia, perché sarebbe venuta a meno la sua immagine di campionessa combattiva, ma soprattutto di campionessa tirannosaurica, dominante, di campionessa opprimente. Zelina lo può giustificare, l'aspetto emotivo dei suoi connazionali l'ha spinta oltre a quello che fa di solito. Su Natalia, in Arabia Saudita, no, non c'era questa scialuppa di salvataggio. Tra l'altro il tuffo, la caduta nel baratro di Natalia inizia per colpa di una distrazione di Dominic, tra l'altro bellissima la maglietta che vedete nel background. Se mi mangio qualche parola abbiate pazienza, ma ho parlato per quattro ore in live reaction. E quindi ci sta, è quello che doveva essere. Alla fine il replay è il match, quello che ci mostrano, ma era uno squash quasi necessario, immeritato per Natalia e per la sua carriera e per il suo contributo alla divisione femminile, ma era quello che serviva a Rhea Ripley. Quindi non me la sento di gettare la croce addosso a questa scelta di booking. Ora, qui vediamo ad un match, secondo me, che apre il dibattito. È stato divertente, ma riesci ad apprezzarlo se ti abbandoni all'ignoranza. Perché purtroppo WWE ha deciso che Cody Rhodes ha delle capacità sovrumane. Che però, come quando ha pestato 20 atleti, 20 atleti, 20 addetti alla sicurezza, esagerando, lo rendono parodistico. Non ti fanno parteggiare veramente per lui, perché, dici, è impossibile. È stato in una Kimura Lock per due minuti e mezzo, forse anche di più, col braccio teoricamente rotto, colpiva col braccio semi-ingessato con la fasciatura senza che si facesse nulla. Poi faceva la crossroads di DT e improvvisamente il braccio faceva male. E non lo so, si cade su Cody in questa idea di farlo apparire come un superuomo che ci sta, è ragionevole, è il face di punta teorica dell'intera WWE. ma invece di fermarsi ad un limite ragionevole si vuole andare oltre e quell'oltre è troppo, è troppo. Tra l'altro poi Cody sviene la Kimura Lock, quindi non c'è il tap out da quello che mi è parso di capire, gli risparmiano l'onta dell'occeduto direttamente, però dopo essere svenuto si risveglia nel giro di pochi istanti per simulare il dolore in una situazione tra l'altro che o svieni o provi dolore, cioè decidetevi cosa fa la Kimura Lock teoricamente se ti porta a un limite l'hai raggiunto finisce lì. Però malgrado queste osservazioni nella sospensione dell'incredulità che sono riuscito in qualche modo a tenere viva pensando al match come una rissa ignorante oh, a me è piaciuto, a me è piaciuto, però devo perché faccio anche l'analista anche in questo caso mettere in vetrina il fatto che con Cody non hanno questo senso del fermiamoci del basta già questo anzi meglio fermarci perché così sì che diventi suo amico suo alleato parte del suo dolore andando oltre ti sembra quell'idea classica supereroistica alla John Cena o alla Roman Reigns face che lo portano ad essere tifato mentre gli altri sono stati lungamente contestati in quel ruolo non da tutta l'utenza ma da alcune frange molto rumorose ma che ti porta a tifarlo perché c'è l'effetto novità che quando si sarà insomma quando sarà diminuito genererà l'effetto opposto quindi dico attenta WWE perché è un attimo il passare dall'eroismo alla parodia e con Cody si è sempre su questo confine sottile al quale non bisognerebbe avvicinarsi invece con lui lo si supera a pieno ritmo su questa cosa sono molto curioso di sapere i vostri pensieri quindi scrivetemi lì per favore voglio confrontarmi con voi nei commenti chiudiamo con Sami Zayn e Kevin Owens che si confermano campioni tag team in un match contro Roman Reigns e Solo Sicoa che è il classico incontro Samoano a squadre in attesa che accada qualcosa ed è così tu lo sai che accade qualcosa tu lo sai che o arriveranno gli Usos o Roman Reigns sbaglierà colpendo Solo Sicoa e tutto quello che stai guardando ha poco costrutto cioè ti prende meno perché deve succedere una di queste cose magari anche un errore tra i due campioni che litigano e infatti a un certo punto accadono tutto quello che c'è prima è una lunga attesa è un lungo preludio perché qui vige la storia e quindi magari prima che accadesse qualcosa prima del temporale mi sono trovato a volte a dire beh dai 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 però poi quando è arrivata la pioggia ragazzi beh ha grandinato tanto è stato un temporale da doppia libidine l'arbitro va a cappò arrivano gli Usos danno manforte ai colleghi della bloodline poi però sbagliano l'interferenza e colpiscono inavvertitamente Solo Sicoa Roman vede tutto si incazza entra non gli dà il beneficio del dubbio se la prende con Jimmy Jay cerca di fare il pacere ma Roman ce l'ha con Jimmy e alla fine a Jimmy girano talmente tanto a mulino che pam lo secca con un super calcio Jay prova in qualche modo a metterci una pezza ma Jimmy lo spinge via e pam colpisce di nuovo Roman che poi perderà dopo la combo stunner e dell'uva kick arriva un arbitro di corsa dopo che ha lasciato incustodito il ring per diversi minuti e conta il finale vabbè lasciamo stare questa roba però si muovono le cose c'è la storia che avanza Jimmy guida l'insubordinazione Roman perde arriverà a Smackdown il prossimo con la festa dei mille giorni col dente avvelenato la bloodline si divide mentre Jimmy se ne va con Jay perché Jay vorrebbe andare da Roman anche quando il match è ancora in corso e il fratello ha già tradito ma Jimmy lo trattiene gli dice guarda che io ho fatto quello che avresti dovuto fare tu tanto tempo fa dovevi essere tu a trascinare me su quella strada è finita invece che sono io a fare a fare insomma quello che guida le truppe e Jay è combattuto però si mette le mani in faccia come a dire è successo qualcosa dal quale non si torna indietro quindi un finale bello funzionale alla storia importante che segnala e sancisce anche il trionfo di Sammy e di Kevin che sbandierano le cinture in faccia a Roman Reigns con tutto il pubblico festante pensate poi un Sammy che si è presentato anche con l'abito tradizionale arabo ed è stato il più tifato un Sammy che nella piccolezza del wrestling di fronte alla politica mondiale getta un piccolo seme di speranza e di diplomazia in una zona geografica del mondo molto molto critica e cruciale però bello bello un match guidato dalla storia un po' telefonata un po' timonata dall'attesa del della scintilla che muta il match nella storia alla fine c'è stata io non mi lamento io non mi lamento quindi in conclusione per me sono state tre ore e venti ben impegnate uno show forse non epocale senza quel match da immortalità che però mi ha dato quello che volevo non ci sono state criticità gravi non ho visto niente di brutto non ci sono stati i match legati allo sviluppo delle storie interno allo storytelling che io amo ma chi se ne frega hanno tutti funzionato bene o male quello che ha funzionato meno comunque è promuovibile ci terrei a sottolineare ancora di più il buon incontro tra Trish e Becky se vi focalizzate sulla forbice sbagliata all'angolo con Becky che la radrizza o su qualche piccolezza tecnica allora non avrete la mia stessa opinione se però queste cose le mettete da parte perché wrestling è buona la prima ci sta che qualcosa non vada per il verso giusto anche e soprattutto se rischi tanto se vi mettete nell'ottica di vedere cosa hanno fatto come hanno lavorato le due protagoniste allora forse magari riuscite a capire perché sono così ottimista e positivo sulla loro prestazione però queste sono le mie opinioni il bello è il confronto è leggerne altre è il vedere se l'idea pubblica generale è in qualche modo allineata alla propria oppure se qualcuno riesce a fartela cambiare quindi come dico spesso non siate timidi di Tarroventi ora tocca a voi ditemi la vostra qui sotto nei commenti di Tarroventi di Tarroventi